Oggi è un grande giorno, dovremmo festeggiare tutte Comunque, questa festa della donna... Beh, a me come tutte queste feste... Mi sembra tutta una cosa commerciale Ma sti uomini e sti donne sono veramente uguali secondo te? Ma possiamo essere veramente uguali? Facciamo un esperimento A tutte le donne nella vita è successo almeno una volta di subire un advance molto spinta Che ne so, una manata sulle chiappe È bello! Ma lo dai un bacio? Ecco, noi oggi ci comporteremo allo stesso modo E a questa occasione non poteva mancare la nostra... Barbie Amore, è bello! Come stai? Bene, ma che fai? Ma voglio toccarti un po' Perché è 8 marzo e voglio divertirti un po' con te Ciao caro, oggi è la festa della donna Mi puoi fare un regalo? Mi puoi toccare un po' Un po' di più? No Le posso dare un abbraccio? Come? Caspite lì! Bello! Ma ti posso offrire una cena? Bello! Oh! 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 Ah belli! Cosa ne pensate di quello che ho fatto? Vi siete sentiti un po' oggetti? Ma se io ti faccio un po' Ah bello! Eh! Tu come reagisci? Scappi! Ciao bello! Ciao! Oggi è la festa della donna Mi vuoi toccare un po'? Oh! Però alla fine hai visto come reagiscono gli uomini Cioè alla fine di questa giornata hai capito come reagiscono gli uomini? Niente! angle onda sì No te li abbiamo messi un attimino in difficoltà eh Un abbraccio? Un abbraccio Wow! Vabbè oggi è la festa della donna Un abbraccio Un abbraccio Si può Ah beh sì Ciao below Per strada agli uomini disturbano ancora le donne e noi stiamo facendo un esperimento sociale e sul contrario ti volevo sapere una sua idea su questa cosa Beh, un bel tocco la ragazzi Grazie a tutti.